taser 1 prima prima molto prima action ciao a tutti io sono Kiki ciao a tutti sono Alessia io sono Kiki e benvenuti su DreamX oh abbiamo deciso di aprire questo canale abbiamo deciso di aprire questo canale per poter ballare finalmente possiamo fare le random dance challenge no 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 ciao a tutti io sono Alessia io sono no 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 A presto